ciao bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come ricordate il simpatico marco baldini dopo il grande successo in radio e in tv è scomparso vediamo che fine ha fatto è un po di tempo che non si vede più in giro marco baldini scomparso da qualche anno dalla tv dove ha lavorato negli ultimi tempi con uno dei suoi storici amici fiorello chi lo conosce lo ha seguito sin dai suoi esordi quando sbarcato a radio dj conduce diversi divertentissimi programmi come il mitico viva radio dj che segna proprio l'inizio della sua collaborazione con l'amico le imitazioni del comico unite alla simpatia e alle battute dello speaker hanno trasformato la trasmissione in una sorta di varietà radiofonico una formula riproposta poi a rai radio 2 quando la coppia porta avanti dal 2001 al 2008 viva radio 2 diversi sono in progetti che portano avanti assieme con successo poi improvvisamente tra i due cala il gelo la vita di baldini prende una svolta inaspettata che va avanti diversi anni e che verrà fuori in seguito un po alla volta alti e bassi lo hanno portato dal successo al declino e oggi che fine ha fatto marco baldini dal grande successo al declino marco baldini nel corso degli anni racconta una storia terribile fatta di scommesse movimenti di grandi somme di denaro e ludopatia perdite ingenti che lo portano a chiedere soldi a destra e a manca e a causa di ciò inizia a farsi terra bruciata intorno il primo a sparire è linus direttore di quella radio dj che gli ha regalato il successo a cui non ha mai restituito una grossa cifra mettendo fine all'amicizia come finisce la grande amicizia con fiorello dopo che viene fuori un'intercettazione in cui baldini ne parla malissimo una vita distrutta come ammetterà poi alla confessione ho guadagnato più di 10 milioni di euro ma a causa del vizio per il gioco i soldi li ho sempre visti passare non ho più niente una volta ho perso 40 milioni di lire puntando sul ronzino sbagliato sono andato ad un passo dal suicidio ero sfinito da un certo tipo di vita e oggi marco baldini un paio di anni fa ha confessato una verità diversa che ha spiazzato tutti ai microfoni del podcast one more time ha svelato non sono mai stato ludopatico era una copertura da guai più gravi ero finito in un giro di malavita così viene fuori che ha fatto grossi investimenti immobiliari finendo invischiato con persone che riciclavano denaro e perdendo tutto oggi sta cercando di rimettersi in piedi e deve molto alla nuova compagna aurora di 27 anni più giovane che nel 2020 a 61 anni lo ha reso padre per la prima volta del piccolo leonardo recentemente sui social ha fatto capire che potrebbe tornare presto in per un nuovo progetto ma ancora non sappiamo nulla nel frattempo si dedica alla famiglia grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video